E bella boys e benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi, questo è un grandissimo video perché sì ragazzi, finalmente è arrivata la stagione 6 di Fortnite. La stagione che aspettavamo tutti quanti da tempo e finalmente, pow! Eccola qua, sotto casa nostra, easy. Questa ragazzi per me sarà una season dove io tryharderò molto più del solito perché è una season molto bella e ho deciso e mi sono messa in testa che voglio tryhardare per portarvi dei gameplay migliori, sempre sempre di più. Voglio portarvi letteralmente dei gameplay di lusso, proprio da bacio. Quindi aspettatevi ragazzi dei game e dei video favolosi, ve lo dico già da adesso. Inoltre ragazzi, in questo video praticamente ho giocato tutto il tempo con il double barrel e avrete visto sicuramente che il double barrel è stato unnerfato. Ma vi dimostrerò ragazzi su questo video che in realtà il barrel si può utilizzare ancora e a parer mio rimane ancora broken. perché effettivamente il meta non è cambiato. Quindi godetevi il video ragazzi, lasciate un bel mi piace per supportarmi ragazzi, seguite i miei social, trovate tutti i link in descrizione e... Buon video boys! Ragazzi, prendo sto tac. Non è... non è... non è... non è... Però c'è una deagle. Ah bro, deagle contro deagle vuoi fa? Ah ah! Izz! Double dico ragazzi. È un dream. Un dream che si avvera ragazzi. Qua tu devo Joe? Una beсть... La beсть... Mi piace... Ufff... Ufff... Un dream. Quagidades... Esti chai... Non sbaglio Grazie per la ground Grazie per la visione 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 Venga a prendere baby Prima prendo quelli nei ground Mi faccio una place da 200 IQ Ora vengo da te Sto arrivando baby Sono tutta tua questa notte Cosa mi fai? Cosa mi fai? Dobbiamo andare al servizietto? Ehi Cosa mi fai la visione? Cosa mi fai la visione? Cosa mi fai la visione? Uuuuh Baby Hai il bazooka? Scusi non lo faccio più E niente Che fai di bello oggi? Oggi si tryharda come non mai William Questa è la season Dove sei? Dove sei? Dove sei? Qualcuno in high ground? Nessuno in high ground Oh questo era pazzo No non era pazzo Why do you try your best? Mai fia Boop Boop 3 shieldoni? 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 4 shieldoni? a quel mio, eh. Forse non ce la faccio, ragazzi. Ce la safe. Mi sa che non ce la faccio per vedere la safe. Forse sì. No, ce la faccio, dai. Riesco, 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 riesco. Però voglio il campfire. Allora, brother, ascoltami. Tanto sei one hit, no? Non buildarti, buildare è inutile. Non serve, no. Ragazzi, sapete perché non ho trovato il campfire? Perché non so che l'avrei trovato. Eccolo qua, ragazzi. Easy. Easy. Visto, ragazzi? Il campfire. Cioè, raga, dai. Doveva essere un po' più... Cosa? Quattro campfire. Are you fucking kidding me? Ah? What? What? Quattro campfire? Ok, va bene. Ok. Visto. 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 No, non posso sentire i miei rumori della macchina Quindi era qualcuno Qualcuno che ha giampato Ok, se l'ultimo non muore che si suicida Sono 20 bombe Mediana? Mediana? Ok, se l'ultimo non muore che si suicida Ok, se l'ultimo non muore che si suicida Let's go baby 20 bombe a casa Tutte in tasca E non sentirle Yeah, boy Ciao YouTube By the way Iscrivetevi al canale By the way Ciao 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 Ciao